Ciao a tutti, il weekend passato è stato il primo weekend di uscita libera dopo tre mesi. Allora, della gente si è trovata in giro, almeno dove sono andato io, erano in gruppetti abbastanza distanziati. Il barista faceva entrare solo quelli che dovevano stare seduti, oppure per prendere roba da sporto e se la portava via. Però comunque ho trovato qualcuno che non seguiva proprio tutte le istruzioni con le mascherine. E dopo gli opposti invece qualcuno con la visiera. Niente, per adesso è andata a finire così, per il ballo ci si adatta singolarmente, così si organizza privatamente. Così, fino a che non riaprono le discoteche e i locali dovete fare più aggregazione. Ok, questo è quanto, alla prossima.